Buonasera a tutti, siamo a Reas 2011, siamo con i volontari dell'Associazione Ava di Valle Sabbia, provincia di Brescia, che sono arrivati terzi classificati al primo trofeo di soccorso sanitario Memorial Oscar Boscarol. Bene, chiediamo a questi ragazzi il motivo per cui hanno deciso di partecipare a questa gara. Il motivo è semplice, serve a confrontarci con altri soccorritori di altre realtà per vedere effettivamente il nostro grado di preparazione, per vedere se i protocolli che seguono gli altri possono essere uguali ai nostri e per avere un confronto. Poi è una giornata sicuramente di aggregazione, serve a tenerci uniti e a ricordarci che siamo volontari, che è bello fare questo per il volontariato e nient'altro. Ci tengo a dire un'altra cosa, siamo della Valle Sabbia, il gruppo di Ponte Caffaro. Valle Sabbia è formata da nove gruppi, noi siamo quello di Ponte Caffaro. L'ultimo verso il Trentino. Bene, immagino che sarete soddisfattissimi di questo risultato perché siete arrivati terzi su nove squadre, quindi una bella soddisfazione. Vorrei chiedervi che cosa vi ha insegnato questa gara? Avete scoperto di avere dei punti deboli o vi siete scoperti invece forti su altri punti? Ma sicuramente ogni volta che si fanno queste prove ci si mette in gioco e siamo molto autocritici e quindi dire abbiamo fatto tutto benissimo non ce lo diremo mai e questo ci spinge sicuramente a continuare a fare queste prove per migliorare sicuramente, appunto come diceva prima Carlo, per vedere le altre realtà e confrontarci con loro. Siamo soddisfatti sicuramente per il risultato. È chiaro che una volta finito si dice la prossima volta faremo meglio. Potete raccontarci brevemente in che cosa è consistita la vostra prova? Abbiamo cominciato questa mattina con lo svolgimento del primo dei tre scenari. Stamattina ad esempio c'era un incidente automoto, quindi due pazienti coinvolti, uno era prono sotto la macchina e l'altro era l'autista della macchina, quindi poco coinvolto. Poi abbiamo fatto, la seconda prova era un folgorato, quindi persona in casa, folgorato. Di conseguenza anche lì ci si mette alla prova perché bisogna verificare come sempre nel discorso la sicurezza della scena che è primaria per quanto riguarda il soccorso. Nella maggior parte dei casi lo si sente spesso al telegiornale che capita che il soccorritore diventa poi vittima perché ha voluto fare qualcosa in più di quello che avrebbe dovuto fare realmente. Quindi il folgorato era in arresto cardiaco e lì abbiamo fatto una rianimazione e il terzo scenario era anche lì bici contro auto con un bambino coinvolto, traumatico. Abbiamo fatto del nostro meglio, non è stato sufficiente perché siamo arrivati terzi ma siamo contentissimi perché abbiamo messo, abbiamo provato anche oggi che siamo comunque tra i migliori. Benissimo, quindi lo rifarete il prossimo anno? Pensiamo anche che visto che è qualche anno ormai che facciamo queste gare magari di mandare qualcun altro del nostro gruppo, magari quelli un po' più nuovi diciamo e cedere il passo un po' loro e noi riposare.